Sono due le persone arrestate dai carabinieri ad Andria e Molfetta in altre tante operazioni contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel primo caso un uomo è stato sorpreso in via Plinio mentre cedeva droga ad un tossicodipendente. Nella successiva perquisizione condotta dai militari sono state trovate, nelle tasche dell'uomo fermato, quattro dosi di marijuana e 660 euro in contanti. Droga e soldi sono stati posti sotto sequestro. Cocaina, marijuana, hashish e semi di canapa invece sono stati trovati dai carabinieri di Molfetta nell'auto e nell'abitazione di un 27enne incensurato che dovrà difendersi dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane nella sua auto durante il controllo dei militari è stato trovato con quattro dosi di hashish e tre di marijuana mentre in casa nascondeva in un sacchetto occultato sul sol palco del bagno altra sostanza stupefacente per complessivi 45 grammi di cocaina, 800 grammi di marijuana e 150 grammi di canapa indiana, ma era in possesso anche di tre bilancini di precisione utilizzati per il confezionamento delle dosi. L'attività di controllo del territorio condotta nel fine settimana dai carabinieri in altri comuni della provincia di Bari ha consentito anche di arrestare una persona e denunciarne 13 per diversi reati. I controlli hanno riguardato anche la circolazione stradale con 95 veicoli sottoposti a controllo e 163 persone identificate.